Salve ragazzi e cari amici del web, sono ancora io, Andrea Bruno, in una nuova entusiasmante puntata di Te la do io alla Malesia. In questo momento mi trovo nel Borneo, in un posto molto suggestivo perché è tipico. Qui veramente si assaporano i gusti della civiltà locale, è un posto molto impressionante sia per quanto riguarda le fattezze della natura che vedete alle mie spalle, è incredibile, guardate, vi do ora una panoramica d'insieme, qui abbiamo una parete rocciosa di montagna incredibile, una vegetazione fortissima e le abitazioni tipiche, mi trovo sotto una palafitta, abitazioni straordinarie, enormi, ecco vedete le dimensioni della palafitta, qui diamo una visura d'insieme eccezionale, posto incredibile, posto bellissimo, eccoci qua. Il mio giro continua, vi mostrerò altre particolarità di questo posto, chiaramente io non mi soffermo solamente per quanto riguarda il visibile, andremo anche ad assaporare quello che offre la cultura locale, ovvero le pietanze prelibate e anche cerchiamo di immischiarci con la cultura locale in modo da avere un feedback. Io non ve lo faccio mai vedere, però questo per rispetto e per la privacy delle persone con cui mi incontro, però è mia abitudine sempre parlare con qualcuno del posto e avere da costore indicazioni utili su come proseguire i miei viaggi. Ok ragazzi, per il momento è tutto, un caro saluto da parte mia, ci sentiamo alla prossima, ciao!